Amici di DuccagnaTV.it, un cordiale saluto a tutti voi da Pino Carlo Magno, come vedete penso già inquadrato rigorosamente anche lui su Skype, il mezzo che ormai va molto forte in questo periodo particolare, abbiamo Mariano Labanga, Mariano Labanga è un consigliere comunale dell'opposizione al comune di Lauria, ma nella vita, nella sua vita personale e agenda di polizia penitenziaria mi pare a Castrovillari. Allora Mariano ti chiedo subito, innanzitutto ti ringrazio per l'invito di LuccagnaTV, ti chiedo subito come sta vivendo questa quarantena da uomo e soprattutto da poliziotto penitenziario. Buonasera Tepino, buonasera Gianfranco, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Oddio, non potrei parlare di quarantena perché io per il lavoro che faccio mi devo spostare di continuo, quindi non ho perso un giorno, tutti i giorni stiamo andando al lavoro anche perché proprio in questa fase difficile bisogna dare il massimo per il datore di lavoro a cui si dipende, il mio è un datore di lavoro che non conosco, è un ministero, però comunque è un ente che mi ha dato lo stipendio da oltre 30 anni già ormai. Quindi proprio in questa fase emergenziale c'era tutto il senso della responsabilità per il posto che si occupa e quindi ecco che sebbene con tantissima preoccupazione si va sul posto di lavoro. Avete visto tutto quello che è successo in Italia e ahimè dove quasi 50 istituti sono stati presi d'assalto o devastati dai detenuti, una stima del DAP parla di circa 40 milioni di euro di danni, ci sono state 13 vittime fra i detenuti, non ultimo anche il Covid ha fatto le sue vittime, abbiamo due detenuti morti e ahimè due miei colleghi morti per Covid, parlo del nord Italia. Noi qui al sud fortunatamente abbiamo avuto o meglio in Calabria abbiamo avuto, non abbiamo registrato momenti critici, non questo non sta a me poterlo analizzare perché potrebbe essere di tanti aspetti potrebbero aver contribuito al fatto che i detenuti non si sono ribellati anche perché il numero degli agenti rispetto ai detenuti è sempre esiguo. Non so se è stata la nostra bravura, la bravura dei nostri direttori, non so se sono stati i detenuti che consapevolmente hanno capito il periodo che si attraversava, comunque ringraziando a Dio da due mesi a questa parte che c'è questa emergenza e che ricordo che i detenuti non vedono i propri familiari se non mezzo Skype e mezzo telefonate che sono state elargite al massimo, ecco non vedono i familiari, comunque non abbiamo momenti critici e quindi grazie a Dio diciamo che almeno questo ci aiuta in meglio nel nostro lavoro. perché forse Mariano veramente per parlare molto di coronavirus, di medici giustamente in prima linea abbiamo dimenticato quello che poi qualche così telegiornale ha messo spesso in evidenza c'è il problema dei detenuti in Italia ai tempi del coronavirus, siete stati un po' non dico emarginati, per carità è una parola grossa, però c'è un però. Oddio ti ripeto Pino dopo che uno dopo tanti anni che fai questo lavoro e lo fai in sordina perché come dire chi lavora in un carcere non è che può sbanderare ai settivendi la propria professione o quello che fa oppure o meglio la maggior parte delle nostre giornate è chiusa all'interno di sbarre come i detenuti, fortunatamente noi per un lavoro è quindi una parte limitata della giornata. Io non dico che siamo stati emarginati, purtroppo l'emergenza che ha colpito il mondo è un'emergenza improvvisa, è un'emergenza che per certi aspetti ha colto tutti all'improvviso, anche gli scienziati, ecco perché ognuno di noi ha dovuto fare la propria parte anche in silenzio e anche il fatto che magari l'opinione pubblica non ha parlato di noi. Non è un momento per lamentarsi, è un momento per continuare in silenzio quello che si è sempre fatto e quindi io ecco veramente devo dire che il sistema Stato almeno a livello periferico, almeno a livello di forze dell'ordine ha risposto benissimo come del resto i medici e gli infermieri. Purtroppo noi attraversiamo un momento critico, questa pandemia ci ha condizionato la vita, ci ha condizionato la vita lavorativa, ci ha condizionato la vita familiare. Pensavo con mia moglie, riflettevo che l'anno scorso con altre tre coppie d'amici eravamo in Centro d'Italia per i tre giorni a cavallo del ferragosto del 25 aprile. Chissà quando potremo un giorno rifare queste cose, ecco questo ti fa riflettere veramente e quindi le piccole cose che oggi abbiamo ne gioisci, soprattutto gioisci perché ringraziamo Dio e noi laureoti ringraziamo il servo di Dio, non ce lo scordiamo mai che a Lauria non abbiamo contagi se non quella persona che è rientrata dal nord, ecco quindi ancora non abbiamo vissuto in maniera intensa la pandemia fortunatamente, quindi ecco sono contento, dovremmo essere contenti da questo punto di vista. Mariano, tu sicuramente l'hai ascoltato ieri sera Conte, allora che succede con sta fase 2 che parte tra una settimana? È cambiato qualcosa? Non è cambiato niente? È peggiorata? Oddio, qui entriamo più specificatamente sul politico, già innanzitutto penso che Conte come Presidente del Consiglio stia un po' esagerando adesso perché noi siamo una Repubblica parlamentare e tante scelte, o meglio le scelte che fino a quando sono stati dettati da una emergenza va bene, ci mancherebbe il governo, la parte esecutiva che li adotta, ma adesso che non siamo più nella fase di emergenza e quindi siamo già consolidati e quindi siamo in una fase di studio avanzata, beh penso che questo tipo di misura o meglio la fase 2 doveva essere discussa in Parlamento con tutte le forze politiche e queste prese di posizione, oddio che ci fanno ricordare quasi gli stati totalitari, non va bene, assolutamente, anche perché la libertà che oggi tutti stiamo provando, o meglio cominciamo a capire il vero senso della parola della libertà, la dà la democrazia e la democrazia ha le sue regole, le sue regole in Italia è democrazia parlamentare, quindi il fatto che non ha coinvolto in pieno il Parlamento se non in fase poi di promulgazione della legge, quando il decreto dovrà diventare legge, beh questo penso che sia limitativo della libertà. Mariano, tu sei anche consigliere d'opposizione al Comune nostro di Lauria, sta agendo bene la Giunta Lamboglia con questa emergenza, c'è qualche pecca, c'è qualche falla secondo te? Allora, io non sono, io l'ho detto in questo periodo, come è iniziata l'emergenza, caro Pino, adesso stavo contando la interrogazione che ho fatto dal 10 marzo ad oggi come progetto Lauria sulla specificità del Covid e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sono tutte postate sia sul sito progetto Lauria che sul mio sito personale, comunque come ho detto già dalla prima interrogazione che non era un momento per fare polemiche ma la mia era semplicemente, o meglio le idee che il mio gruppo dava erano un momento di aiuto e non di polemiche. Avevamo chiesto una serie di cose al Sindaco e sulle risposte specifiche su quello che ha adottato o non ha adottato, qualcosa mi ha risposto per telefono e non per iscritto e qui non sto a far polemiche anche perché in un momento d'emergenza non si guardano le spicolature. La risposta scritta arriverà qua appena è finito l'emergenza. Però noi avevamo chiesto al Sindaco alcune cose, per esempio quando c'era ancora l'interpretazione errata sui codici Ateco abbiamo chiesto di essere più coraggiosi, di copiare magari quello che aveva fatto il Sindaco di Nemoli che è stato il primo in Basilicata che ha dato il via libera alle persone proprietari di terreno, di coltivare i propri fondi all'interno del comune di Nemoli. Ecco questo non l'ha fatto il comune di Lauria. Avevamo detto al Sindaco, avevamo chiesto sebbene naturalmente con il confronto serrato con la task force l'avevamo chiesto per iscritto se era il caso di comprare anche noi come comune dei test veloci per dare una mano alla task force, cosa che ha fatto la Tronco, quindi un altro paese di centrosinistra. Bene, il comune di Lauria questo non l'ha fatto. Avevamo chiesto di essere più incisivi con la sanificazione. Noi abbiamo visto per televisione in tantissimi comuni come si va anche ad agire sulle strade pubbliche, nelle strade di massima comunicazione, quindi lì ci volevano, che sicuramente aveva un costo. Ecco su questo neanche ci ha risposto. Fortunatamente la regione Basilicata ci ha risposto invece per quanto riguarda la richiesta che avevamo fatto noi al Sindaco di farsi il carico sia verso l'Anci che verso gli organi di governo per avere un'attenuazione dell'imposto locale e questo lo puoi fare semplicemente soprattutto se hai una modifica normativa per quanto riguarda la Tari e poi ci ritorno o meglio ci vogliono anche dei ritorni economici. Ecco per quanto riguarda la Tari la regione Basilicata ha risposto che parte dei compensi, parte di questo tributo sarà coperto con dei finanziamenti regionali, anche perché, caro Pino, se non si interveniva così, vi ricordo che questo è un tributo che paga per il 100% o la persona fisica o la persona giuridica, quindi l'azienda, il bar, il ristorante. Quindi come possiamo pensare che un ristorante oggi che non ha lavorato poteva pagare la tassa sui rifiuti solo d'urbani o altro. Quindi sì, Pino, si poteva dialogare di più, questo è stato chiesto e solo il 29 prossimo noi avremo una riunione come capogruppo sempre in via web con il sindaco e gli altri capogruppo per analizzare quello che è stata la prima fase e quello che sarà la seconda fase. Ecco, forse questo poteva avvenire prima. Noi abbiamo chiesto pure come progetto lavori, abbiamo chiesto, visto che c'è una, se non cospicua, contribuzione per lenire quelle che sono i mancati introiti dell'impresa o per aiutare le famiglie in difficoltà, ci sono contributi che arrivano sia dallo Stato che dalla Regione. Ecco, noi avevamo chiesto perché non incontriamoci come Commissione via web e chiediamo di investire anche le Caritas, perché purtroppo in questa fase non vi sfugge che una parte di cittadini che si è trovata in difficoltà non è censita in nessuna banca dati, perché penso a quei commercianti che fino a ieri avevano un proprio lavoro, avevano un proprio reddito, non hanno mai fatto richiesta di un sussidio. Ecco, oggi magari in quella fetta di categoria o in quella fetta di famiglia possiamo trovare un disagio e quindi era importante avere la collaborazione di tutto. Ecco, questo non c'è stato, questo tipo di confronto non c'è stato. Mariano, qualcuno anche qui a Lauria si sta lamentando che ancora si 600 euro non li ha visti, questi bonus per la solidarietà, le spese. Come la vedi tu? Abbiamo sentito anche ieri sera il Conte quando si è scusato con la platea italiana dicendo che ci sono dei ritardi. Sì, ci sono tantissimi ritardi, ma anche perché l'Imbes è oberrata di richieste. Oddio, qui stanno arrivando migliaia e migliaia di richieste. L'Italia doveva lavorare da tanti anni, si era ripromessa di sburocratizzare il sistema perché è molto faraginoso. Poi ti piomba un'emergenza del genere, beh allora sì, vai in difficoltà. E ahimè, io penso a quelle famiglie che davvero forse quella 600 euro serviva per poter fare la spesa giornaliera. È un dramma, Pino. Non so veramente come tante gente, tante famiglie stanno sopportando questo momento. Questo è un momento triste. Vi ripeto, se io da un lato sono tra virgolette sfortunato che vado a lavorare anche in zone dove c'è una promiscuità, però fortunatamente non perdo quello che è il mio introito mensile. Devo pensare anche a quelle famiglie che quell'introito non ce l'hanno. È già su due mesi. E Pino non è una bellissima cosa. Sì, li capisco veramente. Mariano, ma secondo te si tornerà come prima? O la vita da due mesi ormai per noi è cambiata per sempre? Pino, da quello che sentiamo, da quello che vediamo, sono molto pessimista. Io penso che la vita come quella che per noi è stata, per me quasi 50 anni ormai, penso che ce la dobbiamo dimenticare. A meno che non si giunga a un vaccino. Però anche qui gli scienziati ci dicono che prima di 6, 7, 10 mesi questo non avverrà. E la vedo complicata, la vedo complicata veramente. Io sul posto di lavoro vado con la mascherina, con i guanti. È una sensazione nuova, è una sensazione che non avevi mai provato. Noi purtroppo non abbiamo quei dispositivi di protezione individuale a norma. Noi per intenderci lavoriamo, e siamo fortunati, lavoriamo con le mascherine chirurgiche. E Pino dopo 6-7 ore quelle si sfilacciono. Allora senti il prurito sul naso. È un qualcosa di diverso. È un qualcosa che non ci sei abituato. Non ti ci puoi abituare. Ma anche a pensare al fatto che noi facevamo come laureoti le scambagnate sul Sirino, oppure a Mara, a Mara, a Maratea. Adesso devo pensare di portarmi l'autocertificazione dietro per andare al mare e magari devo stare 5 metri da mia moglie. Cioè, no, non è facile. Ecco, io non riesco veramente a pensare a un futuro roseo. O meglio, lo vivo con difficoltà, con estrema difficoltà. È la cosa che mi ha ferito di più in questo momento triste. E vi ripeto, noi come laureoti veramente dobbiamo portare il nostro padrone in giro per tutta lauria. ma Pino, ma il dramma più brutto che si è potuto assistere è quando tu pensi al tuo familiare ricoverato in un ospedale. Il decesso tu magari l'hai visto dieci giorni prima e dopodiché non l'hai più visto, non l'hai potuto salutare. Cioè, ma sono cose drammatiche, Pino. Cioè, come fai a pensare a una cosa del genere? Ecco, hanno proibito anche la vestizione delle salme. Questo penso per una questione igienico-sanitaria. Ma per noi che abbiamo questo culto della salme, questo culto così radicato, fortuna a Dio, nelle famiglie che siamo così, che rispettiamo così tanto la nostra collettività, i nostri familiari, pensare a non poterlo nemmeno salutare nel momento dell'addio, ma è qualcosa che ti ferisce al cuore. I funerali che non si sono fatti, anche qui a laurea, abbiamo assistito anche alla perdita di giovani vite e non hai potuto dare il saluto che si meritavano. È bruttissimo, Pino. È bruttissimo davvero. Noi, come carcere di Castrovillari, abbiamo perso dieci giorni fa, abbiamo perso un collega. È stato, fortunatamente, non per Covid, ma è stato uno strazio. Una persona che ha lavorato con te per circa 25 anni, Pino. Tu non l'hai potuta salutare. Non è una cosa bella. È una cosa che ti segna e ti segna davvero. Ti segna davvero. Questa tua testimonianza molto bella e ci fa capire che in realtà veramente è così. Siamo ridotti male. Sto slogan ce la faremo, ma incomincia a diventare… non ci crediamo più molto, no? Ma sì, ce la faremo. Diciamo che l'Italia, i lavoriotti, noi tutti, il mondo, spero, anche se alcuni governanti hanno fatto un po', come dire, restì all'inizio e poi si è catapultato il virus come un maceta anche su di loro. Ecco, noi stiamo seguendo tutte le direttive del governo, l'isolamento, non poterci riunire. Ecco, non ci siamo riuniti neanche a Pasqua, Pino. E per uno che ha una mamma di 87 anni e vive a 20 metri da casa mia. Ma sono cose che… ma come non ti possono segnare? Ecco, queste sono cose drammatiche. Ci dobbiamo rifiutare. Io spero che questo ci sia come insegnamento. Ci faccia diventare più buoni. Però, ecco, noi abbiamo seguito tutti, ma se in effetti non si trova un rimedio scientifico, e quindi penso al vaccino, ma come ce la faremo? Come ce la faremo? Come fai a pensare? Ma come facciamo a pensare che io ogni qualvolta vado al supermercato, io guardo con paura quello che mi sta vicino, mi sta avanti o mi sta dietro? Ma questo è diventando veramente un dramma. Cioè, ci stiamo guardando come nemici, come un tori. C'è questa sensazione che quello che ti sta accadendo potrebbe essere malato e quindi ti sposti. Non riesce, non c'è più il contatto umano della stretta di mano. E figuratevi, noi del Sud come eravamo empatici su questa cosa, la stretta di mano, l'abbraccio. Ecco, tutte sensazioni che tu oggi non puoi vivere. Come facciamo a pensare che il mondo che magari domani sarà sempre così. Io spero veramente che le cose cambiano. Io spero veramente che Marò deve fare la scienza alla sua parte. Qui ci dobbiamo veramente, e dobbiamo sperare anche in questo momento, seguendo anche le parole di Papa Francesco, che gli stati non siano avari su questo. Che magari, come si trova il vaccino, ci sia la distribuzione mondiale. Perché qua c'è pure chi ormai si vuole accaparrare per sé i brevetti. E queste sono cose drammatiche. Noi fortunatamente, sì, fortunatamente come Italia abbiamo ottimi scienziati. Io ieri sera sentivo che il nostro istituto di ricerca di Pomezia sta collaborando con Oxford, quindi a uno dei due vaccini in fase di elaborazione. Quindi diciamo che come italiani ci possiamo sentire orgogliosi. E quindi qui va detto al nostro conda, al nostro governo, ai governatori di domani, che dobbiamo investire sui nostri giovani e sui nostri ricercatori. Qui, dobbiamo dire. E soprattutto questa emergenza ci ha dato in maniera allarmante, ci ha fatto capire che sulla sanità non si fanno tagli. Sulla sanità non si fanno tagli. Mamma quanti tagli ci sono stati in tutta Italia. Tutti noi abbiamo visto ogni sera report o altre trasmissioni del genere. Abbiamo visto lo stilicidio che c'è stato sugli ospedali e sulla sanità pubblica. Questo ci dovrà far riflettere. C'è stata una corsa veramente all'emergenza. Mariano, come vogliamo lasciarci? Che appello fai ai laureoti, ai lucani, a tutti quelli che avranno il piacere di seguirti su questa rete nostra? Vabbè, io lo faccio più da laureota cattolico. Io dico, noi laureoti, che abbiamo la fortuna di avere il nostro venerabile Lentini, Domenico Lentini. Preghiamo. Preghiamo perché veramente che dia questo input agli scienziati di trovare subito un vaccino. Di trovare subito un vaccino perché noi vogliamo ritornare e dobbiamo ritornare alla vita di sempre. Non possiamo vivere con la mascherina. Io non posso andare nell'orto con la mascherina, Pino. Non me la sento, ecco. Quindi speriamo che quanto prima ci sia questo vaccino, benedetto, e finalmente si ritorna alla nostra vita quotidiana. Senti, Mariano, giusto per chiudere con una battuta e sdrammatizzare un po', per questa veramente bella e toccante vista che ci hai rilasciato. Tra un anno, salvo coronavirus e impedimenti vari, tra un anno si rivota l'Auria. Ti vedremo in pista? Beh, qui ho fatto una domanda da 100 milioni di dollari. Diciamo che la passione c'è sempre, la passione c'è sempre. Però mi rendo pure conto che ormai sono dieci anni, sono quasi dieci anni che faccio il consigliere comunale, quindi comincio anche a stancare alla gente. Però dall'altro canto c'è la passione di sempre. Sto lavorando con un gruppo di amici. Io spero che, anziché presentarmi io, potrei presentare alcuni ragazzotti, gente più giovane di me, sicuramente più competente. Se poi questo gruppo di amici riterrà opportuno all'ultimo momento candidare anche me, sicuramente non mi tirerò indietro. Però penso che a l'Auria c'è bisogno di un rinnovamento della politica. Quindi non solo come carta d'identità, ma anche come idee e come volti. Spero che questo sia la volta buona per poter dare un'alternanza. Anche su questo si spera e si lavora. Perché, Pino, volere volare la regione Basilicata dopo 25 anni è cagato. Volere volare, qui qualcuno lo critica, qualcuno no, Bardi è un volto nuovo, è un nuovo governatore, è un modo diverso di fare politica. È la politica del centro-destra. Bene, noi fra quattro anni lo dobbiamo analizzare per quello che ha fatto. Dopodiché si fa il voto e si può scegliere. Allora, Pino, anche a l'Auria penso che una volta si può già assadare la possibilità a chi non appartiene a quelle famiglie di governare questo Paese. Anche perché questo Paese, anche prima del Covid, purtroppo stava arretrando. Non entro, perché vogliamo finirla con simpaticità, non entro in tutti i problemi che ha l'Auria, però se analizziamo quello che è oggi la situazione economica, beh, vi dico che i nostri predecessori, chi ha governato, compreso l'Amboglia, non ha fatto un bel lavoro per l'Auria. Bene, io ti ringrazio per queste battute finali, ti auguro naturalmente buon lavoro e in bocca al lupo per tutto, Mariano. Grazie assai. Grazie, grazie, buona serata. Buona serata e buona serata anche ai nostri telespettatori. Arrivederci alla prossima.